il bette gadei è cominciato così fra sorrisi e battute per juventus inter panchine suggestive su quella bianconera con tra pattoni l'attaccante quasi del tutto ristabilito su quella nerazzurra con bersellini pizzetti portiere omonimo del chirurgo che operò il giocatore i cambi di velocità imposti dall'inventiva di beccalossi illustrano subito lo spirito con il quale l'inter raffronterà i campioni d'italia la juventus risente come previsto delle assenze di furino e tardelli a centrocampo la manovra è meno sincronizzata e meno lucida del solito per un marocchino intraprendente un galderisi frastornato dalla marcatura puntigliosa di bergomi ma comunque sempre temibile in zona gol nella ripresa i padroni di casa giocano la carta del ritmo contro avversari più lenti ma anche più precisi di loro gentile e bonini garantiscono ardore e movimento ma per servire palloni invitanti come questo per virdis occorre affidarsi alla vena alterna di bredi prima di essere rilevato da tavola galderisi regala la platea ancora questo brivido a pochi passi da bordon l'inter elabora un football compassato puntellando con oriali e marini la retroguardia e replicando con qualche sortita di rimessa garantita dal sorgnone beccalossi intorno alla mezz'ora barbaresco protagonista a cabrini chiediamo subito il racconto degli episodi contestati di questa partita sul rigore che è stato concesso dal signor barbaresco c'è stato un contrasto impinare interista tra mi pare bini e tavola la palla schizzata sul sinistro mi sono impossessato però mi si è fermato in mezzo alle gambe in quel momento è entrato oriali mi sembra che ha preso pallone diciamo è avversario e sono finito a terra per quanto riguarda invece l'episodio successivo quello subito dopo il rigore segnato da bredi l'episodio successivo è sempre stato un lancio sulla sinistra ho fatto un contrasto con bini che ho vinto sono riuscito liberarmi di un altro difensore interista in quel momento mi sono allungato la palla è entrato un altro e mi sono trovato a terra bersellini negli spogliatoi contesterà il penalty concesso dall'arbitro mentre cabrini parlerà di un altro rigore negato prima del gol l'ultima occasione per l'inter irriducibile nel finale capita fra i piedi di bergomi ma zoff dimostra un'agilità pari a quella dell'under 21 1